Caetano Manfredi al fiere dell'alleanza PD 5 Stelle al 45,5%, seguito dal candidato sindaco del centrodestra il PM Catello Maresca al 29,5%, poi Antonio Bassolino e Alessandra Clemente, entrambi stimati all'11%, ma quasi un elettore su quattro, praticamente il 24% degli intervistati, è indeciso sul voto da destinare al prossimo sindaco di Napoli. Sono questi i dati più rilevanti del sondaggio Ipsos a tre settimane dal voto per il Corriere della Sera, che ha testato anche gli eventuali ballottaggi, individuando comunque la vittoria di Caetano Manfredi contro qualsiasi avversario. Tra i partiti sono i 5 Stelle al 18,6%, a prevalere anche sul PD che è al 17,4% e la lista Manfredi sindaco all'8%, mentre Fratelli d'Italia è al 7,1%. Il vantaggio di Manfredi al momento appare quindi molto netto, ma aleggia l'incognita rappresentata da quale potrà essere la scelta degli elettori delle liste del centrodestra non ammesse alla competizione elettorale. L'amministrazione uscente di Luigi De Magistris polarizza le valutazioni dei napoletani, il 54%, ne dà un giudizio negativo. Ci sono anche alcune sorprese, il candidato più popolare è Antonio Bassolino. Il meno conosciuto Matteo Brambilla, il consigliere dei 5 Stelle, che ha deciso di presentarsi da solo col sostegno della base dissidente in aperta contestazione col movimento. Se tu non conosci le cause che hanno portato all'indebitamento e la tua soluzione è dare soldi e non risolvere le cause, tu le cause ordinate ce le avrai sempre, cosa che gli altri candidati manco si sognano di andare a entrare nel merito perché non lo conoscono.